Yuki a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui nuovamente insieme a Christian che ci porta la sua deck profile di Flanderese, con cui ha fatto primo posto all'OTS Championship in Ancona. Ciao a tutti, allora come ho detto Cappello ho portato Flanderese. Sì, ho fatto primo posto, diciamo che il torneo era, cioè, i mazzi forti c'erano, anche la gente, non è che eravano tantissimi. Io ho beccato Dragon Link al primo turno, poi ho beccato un Chaos Thunder Dragon, credo, fosse una roba del genere, PK Brave Token e poi Squali alla fine. Le ho vinte tutte, tranne contro PK che ho pareggiato per il tempo, che vabbè, non è partita neanche la terza partita, altrimenti con una carta dovevo faccio vedere si poteva anche vincere anche senza entrare in battle al primo turno, però vabbè, quindi ho fatto praticamente 3-1-0. E vabbè, faccio vedere la lista. Come mostri, il reparto Flander era abbastanza standard. Gioco 3 Robina, 3 Acqui, 2 Ostri e un Toucan. Tutti quanti hanno un effetto simile, più o meno. Tutti quanti dopo un effetto specifico ci danno una normale in più, si bandiscono quando lasciano il terreno e dalle bandite tornano in mano quando io avoco un Bestia Lata. E' molto forte come cosa perché si mettono in Shailing 2 all'effetto del mostro Bestia Lata coevocato. Appunto, tutti quanti danno una normale aggiuntiva dopo un effetto specifico. Robina aggiunge un livello 4 o meno Bestia Lata, Acqui aggiunge un livello 7 o più Bestia Lata, Ostri banna uno da uno dei due cimiteri e Toucan, che è un pochetto il più scarso, però questo ci gioca uno, riaggiunge dalle bannate una carta Flanderese. Quindi sarebbe praticamente per riciclare carte e così via comunque. E' cosa molto importante, tutti quanti, quando attiviamo uno dei due effetti, ovvero o quello specifico di loro che poi ci va fare anche Normal, oppure quello che dalle bandite si riprende in mano, ci loccano da Special, cioè non possiamo più fare Specialmente, però diciamo che il mazzo non è che ne risenta troppo. Come Boss Monster ho giocato un Empen, ho visto gente giocare una 2, ho visto gente giocare un Empen e un... mi ricordo anche come si chiama, l'altro Flanderese grosso comunque sia, Gufoneve, però diciamo che secondo me non ce n'è troppo bisogno. Allora diciamo che tanti livelli grossi fanno ubricare il mazzo che diciamo che già di suo ha un po' di problemi in questo ambito. Secondo me l'unica pecca di Flander è proprio la consistenza, che sì va bene a parte avevano carta, però bisogna anche avere le carte giuste per interrompere le handtrap dell'avversario. Quindi secondo me un Empen basta e avanza, anche perché di solito quando facciamo combo la partita si chiude lì, non ne servono altri. Se me lo togliessero lui non si banna, quando lascia il terreno quelli grossi non si bannano, possiamo bannarlo con Ostri e poi riprendercelo con Tukan, oppure se siamo anche sotto Shifter comunque verrà bannato, diciamo che comunque sia non ne ho mai sentito il peso di due. All'inizio l'ho provato con due, però diciamo che con uno è molto molto meglio secondo me. Altro mosto fortissimo Raida, Raida veramente l'ho fatto un sacco di volte dal torneo anche perché non è una volta per turno e è praticamente infinito perché ogni volta che lo usiamo lo riprendiamo in mano. Cosa anche molto forte è che possiamo lupare Shifter con lui. Ah vabbè lui invece fa praticamente mina mistica, cioè non fatti vari effetti di mostri evocati speciali in attacco e Abda Spell, Trap, Flanderiz quando entra e poi si bitta, cioè se combatte con un mostro, banniamo una carta da mano, dimezziamo l'attacco e difesa di quel mostro. Altro boss monster è Aviano, Aviano fortissimo, lo possiamo tirare anche magari prima che l'oppo entri in battle nel suo turno, se magari dopo la side ha sedato un Ively così che torna in mano un Ively. Comunque molto forte perché fondamentalmente il concetto è questo. Se lui muore lo possiamo riciclare e rievocare. E vabbè. Raiza ogni volta torna in mano, quindi abbiamo sempre un tributo da fare, Aviano si autoricicla da solo. Quindi il concetto di questi due è il fatto di non rimanere mai senza tributi perché se il mazzo resta senza tributi deve giocare con quello che ha in board perché lui possiamo riciclarlo, loro due no. A meno che non si gioca al reparto dogma ma diciamo che non è che sia poi così tanto forte. Quindi è molto importante che questi due non lasciano il terreno e si tornino sempre in mano. Per questo Raiza non bisogna mai gridare e magari rimbalzare due del loppo, tutte e tre del loppo ma lui deve tornare in mano per forza. Aviano stessa cosa però si autoricicla da solo. Ultimo tra virgolette boss monster anche se è veramente la carta più forte del mazzo secondo me. Statua. Statua la possiamo aggiungere appunto con Robina anche se non è di archiettivo perché Robina ha da un best erata generico, livello 4 o meno. E a fine combo quando abbiamo lui e Empen, Statua e Trappola la partita diciamo che è finita lì perché è veramente veramente difficile schiudare una cosa del genere. E vabbè penso che tutti sanno cosa faccia Statua. Entrambi possiamo evocare special soltanto vento. Diciamo che l'unico che ne risente di meno è Liri Trib Brigade. Non tanto per la parte tributi però per i Lusk fondamentalmente può continuare a giocare perché bene o male sono tutti quanti vento quindi non è che gli fa troppo male. Però comunque sia... è comunque un bel mostro in campo anche contro di lui. Gli ultimi tre mostri non gioco troppe Entrambi perché appunto ho detto che il mazzo ha il problema di applicare di conseguenza ho ridotto al minimo essenziale e la carta più forte come me che si possa giocare in questo mazzo sono i tre Shifter che veramente sono stati giganteschi, veramente veramente forti. Prima partita contro Drago parto io e faccio combo vinco. Seconda partita parte lui, scarto Shifter, lui non gioca, gioco io e vinco. Idem contro PK praticamente. Solo che la seconda partita è durata un po' troppo. Io ho ubricato, non ho stati avessi Shifter quindi diciamo che è stata pargiata per questo motivo. Comunque Shifter veramente secondo me è l'unica Entrap, oltre a Imperma però dopo ne parliamo di quella lì, che è necessaria. Cioè per me veramente Shifter penso sia l'unica Entrap da giocare nel mazzo, veramente veramente forte. Tutti quanti hanno bisogno del cimitero e tirarla contro qualunque mazzo è gigante veramente. L'unica roba che magari contro Tribri, Lilirus o contro Dragon Link c'è il rischio che giocando loro gamma, cioè se lo possa beccare, di conseguenza se qualcuno gioca Flander, gioca questo, mi consiglio appunto a tirarlo quando già hanno un mostro in bordo così che non ce lo firmano con gamma. Per le spell, che ne gioco un fottio praticamente. Come spell invece ne gioco veramente tantissime, infatti sono un bel po', e come prima la mappa dei Flanderese, la Terreno, penso sia veramente la spell più forte, cioè a mani basse. Cosa fa? Noi praticamente riveliamo un mostro Flanderese di livello 1 in mano, quindi non possiamo rivelare Empen o Ufo Neve se lo avessimo, ma solo livello 1. Banniamo dal mazzo un'altra carta Flanderese con nome diverso, quindi anche Maggio Trappola, appunto per questo Tukkan può riprenderle, e ci può fare una normal in più di quel mostro che abbiamo rivelato. Quindi la cosa molto forte è che oltre a bloccare le end trap tipo Ashe dell'avversario, perché se io evoco normal uno e banno l'altro, questo Andrana c'è link 1 e lui c'è link 2, di conseguenza Ashe non può attivarla così, non su quello per raggiungere. Diciamo che dare appunto la normal in più e praticamente un sercino hack possiamo dire, e bloccare le end trap, per tutti questi effetti in una sola carta è veramente veramente forte. Come è ancora più forte l'effetto di notturno dell'avversario, poiché se l'avversario evoca normal un pezzo, noi evochiamo normal. Poi dato che ci sono degnati di dare un supporto 200 a questo mazzo, da Bode, no da Bode, da Buck, nei tre avventure, sta carta è rotta, sta carta è veramente veramente rotta. A parte che non capisco il motivo per cui dovrebbe far guadagnare 500, dato che la rende veramente sbagliata come carta secondo me, perché appunto è quella che fa vincere i turni se volessimo. Niente, cosa fa? Magia rapida, banniamo di costo un Flander da mano o terreno e aggiungiamo o una spell Flander, quindi abbiamo praticamente 4 terraforming per aggiungere la terreno, oppure un mostro Flanderese. Non si usa mai, a meno che non si bricca prima mano, non si va mai a usarla appunto all'inizio del turno, però va utilizzata magari contro Imperma, o se qualcuno ancora gioca Vailer, poiché appunto dato che entrambe targettano, questa qua banna di costo e togliamo il target, è veramente forte, perché non negano l'effetto del mostro appena evocato, inoltre soprattutto andiamo a farci di più in mano e inoltre quel mostro che si bandirà ci andrà a fermare una Ashe che magari potrebbe avere in mano l'avversario. Carta molto simile all'avventura, però minimamente non uguale, sono i 3 Book, che si giocavano prima dell'uscita di questa spell, ma anche dopo sono veramente fortissimi, perché fondamentalmente hanno lo stesso utilizzo della spell rapida di Flander, poiché l'obiettivo principale è togliere il target da un eventuale Imperma, Book fa la stessa cosa. C'è un unico prezzo, Book, che quando noi copriamo un Flander con Book of Moon per evitargli un Imperma, se poi il Flander lo tributiamo, non verrà bandito, ma andrà al cimitero. Questo perché i Flander, come ho detto prima, vengono banditi quando lasciano il terreno, sì, però devono essere scoperti. Quindi se sono coperti e lo tributiamo, il Flander coperto andrà al cimitero. Però comunque è veramente, veramente forte Book, sia come strumento difensivo dalle Entrap, sia anche nel turno all'avversario. Abbiamo la statua, lui non può fare special, fa norma, lo book sulla norma, il turno praticamente finisce lì, se non ha modi per fermare la statua. Poi come altra carta, 3 Duality, appunto tanto non giochiamo, cioè non facciamo special, quindi Duality è veramente forte in questo mazzo e niente, non penso sia bisogno di dire cosa fa Duality, comunque è carta che veramente ci sta un sacco nel mazzo. E al posto di Imperma, gioco Calice, gioco Calice perché c'è una carta che ci fa più scadola innanzitutto, almeno dal mio punto di vista, comunque sia, ho visto tanta gente non giocare in Imperma, giocare Calice. Secondo me avere Imperma, sì è forte, perché vabbè andiamo a fermare i carti nel turno all'avversario o rompiamo le combo, cose del genere, però alla fine tirare un Calice su un di pie, su un grifone o così via, è praticamente la stessa cosa che tirare Imperma nel turno nostro, dalla mano, all'inizio del turno non abbiamo carte in mano e soprattutto, avendo una carta che ci permette di pescare o anche duality, secondo me andare a fare duality, discoveriamo brutto, comunque sia, tipo ad esempio, mi è capitato al torneo, c'era contro Vavusca in difesa e niente, ho fatto duality, prendo Calice e nego Vavusca. Se ci fosse stata Imperma non l'avrei potuto fare e avrei dovuto aspettare un turno, perché appunto avevo già roba in board, quindi niente, secondo me Calice è migliore per questo. Questa carta io non so bene come definirla, ho giocato mano a scatola sorpresa perché non avevo appunto Prosperity, ci va assolutamente Prosperity al posto di questa. L'unica nota positiva che voglio dare, perché come carta non è male in realtà, noi riveliamo 3, livelli 1 il mazzo con nome diverso, l'avversario ne sceglie uno e lo prende in mano, noi prendiamo l'altro, noi prendiamo uno dei due e lo aggiungiamo in mano, quindi fondamentalmente l'avversario andrà sempre a prendersi robina e noi andremo sempre a prenderci acqui, sempre al 100%, non c'è mai un avversario stupido che ci prende acqui e ci lascia robina, però devo dire che alla fine neanche che sia così malvagia in realtà. Certo, Prosperity come ho detto è molto più forte, però personalmente preferisco questa, una carta come Xtrava, perché se questa qui ci dà al 100% acqui, Xtravagance non lo fa, Xtravagance non lo fa perché sì è vero, banniamo se dall'extra, peschiamo due carte, però non è detto che tra quelle due carte ci sia effettivamente un Flander per partire, quindi l'ho provato entrambe, l'ho provato due tre, sia questa che Prosperity che Xtravagance, Xtravagance è la più scarsa, Prosperity è la più forte, questa è una via di mezzo, Prosperity non l'avevo al torneo e di conseguenza è toccato usare questa cosa, però non è che siamo a l'accio in realtà, ci ho vinto una partita. Altre magie monocopia, Fissur è veramente veramente forte perché praticamente è una seconda di Colled, questo mazzo soffre in particolar modo Droll, lancea neanche più troppo, ora con la spell nuova banniamo in catena, quindi in realtà lancea tanto tanto, però Droll il mazzo comunque se lo accusa. Con Colled certo è il top perché vabbè lo tirano e amen. Fissur invece sia contro Droll che contro Costogre che è un'altra entra perché questo mazzo soffre parecchio, le va a fermare perché appunto loro hanno come costo di essere mandato al cimitero dalla mano, con Fissur non possono farlo, di conseguenza ci andiamo a parare da queste due entra un po' come Colled. E niente, mi sembrava forte, lo è stato effettivamente perché è stato veramente veramente forte. Altre monocopia, vabbè, terraforming, ne possiamo giocare 4 quindi giochiamo anche terraforming. Poi abbiamo la carta penso più sottovalutata del mazzo, una delle più forti. Eventi inesplorati è una carta particolare ma veramente veramente forte, è una magia continua, cerciabile quindi di quella terreno perché possiamo bannarle e riprenderla oppure con Ampen e ha due effetti, il primo rimettiamo in fondo al mazzo due bestialata dalla mano fino a due, quindi o uno o due, non di più e non di meno, non di più e peschiamo lo stesso numero di carte che abbiamo messo in fondo al mazzo. Questo è un effetto un po' sni, cioè nel senso aiuta a sbriccare le mani, vabbè rimettiamo i mattoni nel mazzo se peschiamo Mega Risa o Aviano va bene, però l'effetto veramente veramente forte è che quando siamo per fare una devocazione per tributo di un bestialata che richieda due tributi, noi possiamo tributare un nostro mostro e una carta dell'avversario. Questo è veramente forte perché innanzitutto andiamo a togliere carte tipo Floodgate come Mina o Dark and Bee o cose varie, no Dark and Bee no, però non so, siamo un limito o cose del genere, cioè comunque toglie Floodgate. Altra cosa è che funziona in un modo particolare con Maschera della Restrizione poiché l'evocazione che stiamo facendo, nonostante tributiamo, non è una vocazione per tributo, quindi questa scavalca Maschera della Restrizione ma non scavalca Mondo Zombie che invece ci impedisce di tributare i mostri che non siano zombie. Comunque ci sta, cioè monocopia, anche vederle mano non è che sia tanto un brick, quindi per me ci sta. Sarcofago d'orio infine, praticamente come se fosse un'altra terreno, molto più scarsa perché appunto non ha effettuato un avversario, però comunque sia possiamo esserciarci un Flanderese bannandolo dal mazzo e poi riaggiungendolo in mano per il suo stesso effetto. Ultima carta, una trappola, è la trappola dei Flander che sta pure veramente rossa, l'effetto dice, dopo che risolve facciamo una vocazione normal di un mostro Flanderese, quindi appunto anche nel turno dell'avversario, è appunto forte che ci permette di giocare nel turno dell'avversario con le normal e inoltre la possiamo bannare dal cimitero quando stiamo evocando un mostro per tributo, con due tributi, un bestelata, e quando la banniamo possiamo coprire tutti i mostri dell'avversario, fa praticamente un po' Book of Eclipse. Questo qui era il main. L'extra non l'ho giocato perché appunto non ho giocato il reparto Dogma e sinceramente non avevo neanche voglia di dare un extra fatto apposta contro ad esempio Maximus, sapendo che nella mia fumetteria nessuno, delle persone che sarebbero venute, nessuno avrebbe giocato niente di Dogma, soprattutto Maximus. E vabbè, I feel sense. Come side ho giocato tre Ogre perché io la reputo una delle enter più forti in questo formato, sia nel Mirror Match contro Flander, sia anche contro, non ne so, Dragon Link o comunque anche contro il reparto dei Brave, forte perché lo facciamo su, come si chiama la continua? Avventura? Avventura Fatidica. Sì, Avventura Fatidica. Ah, si può tirare appunto su Avventura Fatidica e il fatto che lui non si vada a prendere il Grifone è veramente veramente forte, quindi sì, per me Ogre è una delle enter più forti. Oltre Ogre, vabbè, ho giocato tre Ash perché non volevo metterle di main perché appunto avevo cura che il mazzo potesse briccare, però ho detto non voglio neanche giocarci troppo senza perché partendo secondo ci sta averci qualcosa oltre Shifter e niente. Ash mi è sembrata, insieme a Vayler, vabbè, sì, però Ash mi è sembrata quella un po' più ottimale contro tutto. Passando alle magie, tre Twin, vabbè, non è che abbiamo troppi problemi nello scartare una carta, quindi Twin Twist è veramente forte, uno spolverino, senso motivo di Twin, la carta più sbagliata di questo mazzo, è veramente veramente sbagliata e rotta questa carta, io penso, penso che qualcosa gli fanno, non da bannarla ma secondo me a uno la mettono, o a due forse prima, perché è veramente rotta, questa è la trappola delle arpie, non ricordo neanche il nome, come si chiama, la tempesta di piume dell'arpia, che recita, se si controlla la romba e serata a vento, gli effetti dei mostri dell'avversario sono annullati fino alla fine del turno, se poi ce la spaccano, vabbè, aggiungiamo spolverino, ma questo effetto secondario non è che sia troppo importante. La cosa rotta è appunto che il fatto che sia una trappola e possiamo cenarla nel fatto di un mostro e negare sia quello che tutti gli altri che verranno, sia il fatto che magari noi brichiamo o magari ci becchiamo un head trap perché non siamo riusciti a difendere bene il mostro e va bene, quindi siamo fermi un turno e dopo side appunto giochiamo questa qui e l'avversario starà fermo uguale un turno, perché non c'è modo che l'avversario possa giocare con questa, non esiste, non c'è carta che la possa fermare, quindi veramente veramente rotta sta carta per me. Poi ho giocato Red Reboot, sapevo che ci sarebbero stati dei mazzi setto al torno dove sono andato, quindi ho detto sia Red Reboot che Spolverino che Twin Tweetser diciamo che sono per quelli. Infine Macro Cosmo perché ho detto, boh partendo prima è una carta, partendo primo è veramente una carta grossa, comunque sia. Non forte come Fissure, devo essere sincero probabilmente la toglierei comunque, per quanto abbia funzionato la toglierei, magari toglierei questa e un Ashe e metterei due Cyclone perché questo mazzo fa abbastanza fatica contro i setto, se partono loro primi chiaramente, però diciamo che non mi sono tratto male con la side, anzi mi sembra che abbia funzionato abbastanza bene, e niente. E va bene ragazzi, il video finisce qua, spero come sempre vi sia piaciuto, vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i miei social per seguirmi ovunque, tra cui Instagram e Twitch, dove streammo tutte le serie più o meno. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, forse, sempre qua, con un nuovo video, ciao a tutti!